Non siamo tutti uguali e questo lo slogan con cui si presenta Hashtag Controcorrente, la nuova corrente politica di maggioranza della Federazione Nazionale della Stampa. Controcorrente si rifà ai valori dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa e si pone come obiettivo la tutela dell'autonomia e delle garanzie della professione giornalistica. In un momento in cui la cronaca racconta di giornalisti picchiati nel corso dello svolgimento del proprio lavoro oppure sotto attacco della politica per le proprie inchieste. Non è che siano segnali che si sono verificati o si stanno verificando soltanto in questa campagna elettorale, è l'atteggiamento usuale della politica nei confronti dell'informazione, cioè si inneggia alla libertà di stampa quando i giornalisti fanno inchieste che riguardano gli avversari, quando poi fanno inchieste che riguardano quella parte politica diventano dei nemici da abbattere e la libertà di stampa improvvisamente diventa qualcosa da combattere. Controcorrente vuole mantenere centralità politica e progettuale all'interno della FNSI e chiede l'immediata approvazione di una legge che scoraggi le querele temerarie. Nei punti all'ordine del giorno anche la radicale revisione delle leggi di sistema che regolano il mondo dell'informazione, la lotta al precariato con la cancellazione dei contratti COCOCO e la revisione della destinazione delle risorse del comparto sullo sviluppo, sull'inclusione dei lavoratori parasubordinati, sull'occupazione e sulla difesa del reddito dei lavoratori autonomi e poi anche la contrattazione di settore con una proposta capace di includere le nuove figure professionali all'interno delle garanzie contrattuali. Controcorrente è una componente sindacale che insieme con le altre componenti sindacali che attualmente governano la Federazione Nazionale della Stampa si propone di portare avanti un programma che sia innanzitutto di riforma e che guardi al futuro della professione e non al passato. Grazie.